sono arrivati ragazzi e sono arrivati gli occhiali si rocco dentro questa scatola scatoletta tutta bella sigillata ho trovato qui la custodia in stoffa due adesivi carini ecco qua questo libretto e gli occhiali ragazzi che hanno un'ottima lente la plastica si sente che è buona di qualità la lente è un po chiara ma l'aspettavo un po più più scura comunque è una lente e quando la indossi si vede che di qualità ci si vede veramente bene faccio vedere vedere una lente veramente veramente ottima ovviamente una lente chiara quindi è per quelle giornate poco un po nuvolose con poco sole comunque sia il materiale dare dal senso vedete anche qui tutta in acciaio con la vitina il materiale dà senso che che buono leggeri la forma è una classica forma che molti marchi utilizzano classica qui di lato c'è la scritta questi li ho comprati gli ho pagato una trentina di euro vi metto un link in descrizione poi mi dovrebbero arrivare un altro paio il regalo la lente polarizzata la lente ottima guarda una volta messi poi vi proverò bene con il sole ma si vede veramente bene faccio vedere vedere guardate guardate quando prendo la scritta polarizzata polarizzata ma è un occhiale che magari dall'ottico può stare sulle 60 80 euro la qualità più o meno è quella lì ok ragazzi pollice in su e link in descrizione attenzione attenzione attenzione